E con il dialetto Fai sorridere e pensare Con Avis vai a donare E' lo slogan simpatico pensato Per il Donor Day al centro trasfusionale Dell'ospedale Santa Croce E dedicato appunto al dialetto fanese A questa giornata parteciperanno I poeti vernacolari E ovviamente gli attori delle compagnie teatrali Allora quanto vuoi Comperate qualcosa Dalle persone così che sono in giro Per il corso o al mare Non sapete a chi date i soldi Quando fate un'offerta a qualcuno Che chiede le limosine Anche lì non sapete a chi date i soldi Ma quanto voi donate il sangue Siete sicuri di darlo a delle persone Che faranno del bene agli altri Donate più che potete La domanda sorge spontanea Io che ho le piastrine basse Dipende quanto è in basse L'aroma Quei che è in basse Giusto? Comunque ho le piastrine basse Chi ha le piastrine basse Può donare il sangue? Forse chi ha le piastrine basse Può dare solo a quei alti Almeno un metro e cinquanta Non di più Allora l'altra domanda Che sorge spontanea Io che sono alto Perché ho le piastrine basse? Forse perché abiti in un seminterrato L'altra roba è che Adesso non sono tutti i tecnici Ma che non sono tutti quelle piastrine E abbiamo spiegato queste piastrine Che non sono quelle dei militari Che mettono le spalle Spieghiamolo, no? Le piastrine Quelle che si mettono negli armadi Per mettere E quelli, no? C'è quelli dritti Quelli aelle No, le piastrine Le piastrine Quelle che si mettono Del furnel anti-Zanzara Quelle che fanno il fun Quelle le piastrine E' bella Ma lì E so C'ho internet C'ho internet Ma chi c'ha scritto Anicolo c'ho scritto Ma scusa Ma le piastrine Non è quel per rivestire il bai No Quelle le piastrelle Secondo me Secondo me Dopo questi spot Che abbiamo fatto L'Avis cequerina Caleranno le donazioni Del 26% Avevamo promesso Delle grandi sorprese Per questo nuovo anno 2018 E continuiamo Sulla scia di questi Donor Day particolari Con la giornata di oggi Che è dedicata Al dialetto fanese Il dialetto fanese Caratterizza la nostra città Abbiamo invitato Tantissimi attori Anche donatori Perché ovviamente Dobbiamo ricordarci Che queste giornate Sono a tema Ma sono a tema Per promuovere Un gesto semplice Che è quello Della donazione di sangue Molti non si rendono conto Di quanto sia importante Donare il sangue E salvare una vita Ed è importante Soprattutto per evitare Quelle che sono Le emergenze Spesso abbiamo perso Fiducia Nella società Però attraverso Questo semplice gesto Sono sicura Che potremmo fare Tutti noi la differenza E quindi L'appello Che vogliamo fare È quello Di venire A trovarci Al centro trasfusionale A diventare donatori E poter Veramente regalare Sorrisi Alle persone Che stanno bene Ma anche Soprattutto alle persone Che stanno male Perché essere donatori Non è solo un gesto Che fai È una responsabilità Verso te stesso Ma anche verso gli altri E quindi Ci auguriamo Che la nostra famiglia Si allarghi sempre di più Per garantire In maniera Responsabile E periodica La presenza Delle sacche di sangue Che sono molto importanti Perché Come si è visto Anche tempo fa Sono state chiuse Anche le sale operatorie E questo Hanno dovuto Praticamente Molti Che hanno Avevano degli interventi Programmati Li hanno dovuti sospendere Proprio per l'insufficienza Del sangue Quindi Chi non è donatore Si faccia avanti Perché noi lo aspettiamo A braccia aperte No Giorgio Proprio segue Un'alimentazione Per donare il sangue Vero Giorgio Sì Infatti Sono così apposta Snello Perché Cioè La cosa Avviene tutto In un'atmosfera Atmosfera Molto pasquale Cioè Prima Prima si va Si va Al bar Si prende una bella Brioche Ai frutti di bosco Frutti di bosco Integrale 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 E poi si fa Si va Dall'ortolano Dall'ortolano Si prende Il pompilmo No il pompilmo Ma gli prendevi Il melograno Ah già Il melograno Eh no Perché secondo me Che non è di stagione Allora Allora se fai Una bella spremuta Di No spremuta Lo estrai Lo estrai Lo estrai Lo estrai Fai un'estrazione Del melograno No Poi dopo Ti fai Una bella Comunque Se te le robe Non le sai Non le sai Ma non le so Què che ne so Perché fa bene Per qualcosa Sta roba Si fa bene Per i trigli E i ceridi Fa bene I ceridi I cieli I treglia C'è Le robe Le sai No Allora Se uno le robe Non le sa Non le sa Non le sa In pescheria E voi C'è la donna Quando ne volete Cunite Possa A questo pesce Mugite un po' In Ancona Mi sapete di bene Voi C'ho capito Ma senti La macchia Sentite Mastia Ma C'ho Vole Dì Stazzita Va C'è la donna Sarà Il cuo Il vostro Possa No Il pesce Mia Dal Stamattina Mi date Un kilo Di brodo Perché è il più buono Mi c'è mettete Un pesce Di copertina Un pesce Di grasse Magare C'è un bel conto La lingua Che piace Tanto A mio marito Ma a voi Non vi piace Non ci dà Non vi spacca Sa me Le robe E non è mai esistite Quella È la voi Che è tutta Carne E vacca Marietta Come dite Questa è vitella Ma qua Contate Su Lasciate Giovanini Questa bestia Sarà stata In casitella E non vi dite No È morta Vecchia Blin E adesso Un pesce Di muscoli E gli slavrighi Un muscoli Tutto per voi Se l'ho proprio Adatto E qui c'è Fag Io c'è Quello De mia marito Che fag Per dire Il vostro Dal malgato Germano Oltre ad essere Un grandissimo Scrittore Sceneggiatore Fanese Prima ci stavi Raccontando un episodio Perché dobbiamo dire Anche che tu hai donato Per trent'anni Tantissimo Tenti No meno di trent'anni Sì ho cominciato a dire Quella volta L'Avis Non era ancora Formata Organizzata Come Come lo è oggi Si veniva ogni tre mesi Oppure Ti veniva qualcuno A chiamare Soprattutto in caso Di necessità In caso di bisogno C'era necessità Di Un flacone di sangue Guardavano La Come si chiama La sigla Vabbè E veniva E veniva a chiamarti A casa Mi è successo Non tantissime volte Ma sia a me Che a mia moglie Perché era donatrice Anche lei E' successo Una volta Che mi è venuta A chiamare Un infermiere Un energumeno Alto A casa A casa Suona il campanello Alle due di notte Una e mezza Due di notte Che io mi ero anche spaventato Perché Sai Quando ti suonano di notte Pensi sempre Al peggio E mi ricordo Mi sono vestito Sono venuto In ospedale E come sono entrato Nel reparto Ho visto A sedere C'era una fila di sedie Un omino piccolo piccolo Come quello Della Della Che stava tutto lì Rannicchiato Mi ha guardato Con gli occhi lucidi E mi chinchinava E diceva Grazie 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 Dico Che è questo Che vuole Poi ho immaginato Che fosse E Ho dato Ho fatto la mia Donazione Scherzando con L'infermiere Che ormai conosceva Abbastanza bene Lo sai Poi quando esco Questo omino Che era ancora lì Mi si avvicina E fa La posso ringraziare E continuava A inchinarsi Ma mi voleva baciare La manga Ma come fai Beh L'ho detta Sta cosa Perché Quella volta Mi è Scattato un meccanismo Dentro la testa Perché io Fino a quel momento Avevo fatto il donatore Cioè però Io l'avevo sempre presa Come uno scherzo Ma un po' Mi stavo emozionando Tra l'altro Di pensarci E Mi sono reso conto Dell'importanza Che quel gesto Che l'avevo preso Sempre per Poco più Che un gioco Veramente Era importante Di quanto fosse importante Un'altra curiosità Perché Oggi A fine donazione Viene Insomma Ti regalano Un buono Per la colazione Una volta Era un po' diverso Perché c'era una bistecca Se non ricordo male Dai racconti Però Sì sì Mi regalavano Un pacco di zucchero Un pacco di zucchero E un buono Per andare da C'erano 3-4 macellaie Fano convenzionati Per prendere Una 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 bistecca Perché secondo La vecchia tradizione La bistecca fa sangue No? Tant'è che una volta Diamo un po' le volte Ma dammi le due di buone Così mi fa più sangue Vengo di più Insomma Come dicevi prima Basta poco per Fare un grande gesto Aiutare gli altri Sì in fondo Voglio dire È una goccia di sangue Non so neanche Non mi ricordo più Quanto è la quantità Comunque Io non ho mai avuto Grossi problemi Insomma Sono sempre stato Molto tranquillo Con La paura Il male Quando vedo il sangue Divento male Io mangio anche le bistecche Il sangue Di Falcioni G Falcioni Lavis Dirige Fabio Turriani Vai Giorgio E recita G Falcioni Vai Allora Lavis Io mi ricordo Da ragazzo Anche se n'era Tant'grasso Giva sempre All'ospedale Ad un'esame Che sta male Perché la finalità Era quella di aiutare Ma una situazione Che viene in conto Ma una fascia Di popolazione Che purtroppo Non sta bene per niente E ha bisogno del sangue Durante l'intervento Ma volendo essere Del tutto sincero Era anche Che in quel periodo Tant'grasso Un bel buono Per una bistecca De masso Era proprio Un invito a pranzo Le volte E vedevi l'ora Per fare che il prelie Sala piove O anche sala neve Sul Falpres Daclamatina Per gustare Un con di carne genuina Perché veramente Sacco la crisi Che si attraversava Trovose una fetta Di pimpinello Se ce ne aveva Poi anche là Vissi ridimensionati I buoni Per la carne E gli antagliati E al po' Dicola mercanzia Per riempire Quelcone di panza mia Dovevano Dere una merendina Smingerlita Di voi Per si ammuffita Accompagnata Sono succo La pira Che manca Un che fa Dieci anni De galera E trattava In una clamaniera Adesso Non è passato E il sangue Per una malattia Immunitaria Non l'ho più Se oggi Danno O non danno Qualcosa Questo proprio Nel soldi Anche se in realtà A parte Queste due Fegnaci Un gran Importanza Anzi È giusto Invece Che la comunità Sappia Quanto è importante D'un est Liguito Precioso Ogni tanto Affinché Ce ne sia Un belcone A disposizione E la Vi possa Gestirle Per ogni Cazione Se per Contracambiabile Proprio Qualcosina Oh E la Troveremo Un con De Di Anselmi e Facchini La cucina Legge Nicola Anselmi Alla macchina Da presa Fabio Turiani Grazie La cucina Stamattina M'ho chiamato E no Ma niente Ne manca but Guardate Due Exunut Se la paura Un po' Di terrore E il cuore Un gran Tremor A donare Mi presento Anche se Non sono Contento Cazzo Ma voi Altri Ce pensate Mi vuoi Ne dare Le siringate Se presenta Un'infermierina Che mi porta Una stanzina Mi fa Metta Giù A giagione E poi mi dici Su Non faccia Il cuoion Tiri su La camicina Che le prendo La cucina E allora In che Il frangente Ho capito L'importanza Deste momento I pensieri Si accavallano Come il vento E ho capito In che la sostanza Che donare È bella E poi Dà tanta speranza E mi sono detto E se capita Ma me E allora Ho dato un strel Dottoressa Tiri pur senza premura Come è passata La paura Ho capito Che questo gesto Tiri tiri Faccia presto Dottoressa Facci in fretta Che la vita Non aspetta E ste gesti Umanitari È qualcosa Di straordinario Grazie Grazie E allora Anche tu oggi Molto contento Di essere qua Ci dicevi Certamente Perché Quando Marco Mi ha chiamato Se avessi L'intenzione Di partecipare Alla giornata Donor Day Che sarebbe La giornata Delle donazioni Ho risposto Con grande entusiasmo Per l'occasione Ho scelto Un percorso Attraverso Delle poesie Che avevo già scritto Ma che si possono adattare Benissimo Alla giornata E su richiesta Di Marco Ho composto Un sonetto Proprio appositamente Sul gesto Della donazione Che poi Ascolterete Dalla mia Dalla mia voce Quindi per l'occasione Grazie Ti lascio il microfono Non l'ascoltiamo subito Grazie Allora La prima poesia Essendo L'atto Della donazione Un atto Che implica In sé Per sé Una gentilezza D'animo E quindi Rappresenta Il grande cuore Degli italiani Le poesie Che intendo presentare Sono quattro La prima È I Do Pepe E praticamente Comprende L'unità d'Italia I Do Pepe Naturalmente Sono Mazzini E Garibaldi I Do Pepe I Do Pepe I Erlatre Da Dedla Smagunavne Tra dell'ora Ma Cunce Fa Dimle Tesso Ragione Imenaria Guardate Come Ardotto L'Italia Mia Oh Mazzini E Garibaldi Erne D'accordo È passato 150 An E come Ier L'Italiano Vuol Campare Senza Pensare Fa finta Dessa Murt E Dessa Sord T'Arcordi Che casin Che è sciaginita Gli avendati Ma gli asburgici E i burbon Quanti morti Per finire L'Italia Unita Tra le battaglie Le guerre Le ribellioni Egli Che ho predicato Una vita intera Per liberare Il padano Dal tedesco Che senza Svedere Per poco In galera Fortuna Che è fuggito Se no Sto fresco L'Italia Che pareva Un port de mer Al nord C'era un padrone Che era straniero Del centro Il papa Che sa la religione Spaturava come un re Feva il comandone Al sud E il siciliano Il gioco del col Il re napoletano San re spagnolo Da cima Il savoiardo Piemontese Un po' Mese italiani E mese francesi Del centro Pensa te Che roba strana C'era un signor Granduca Della Toscana Che sbataiava Spesso Quei dintorno Insomma Era un casino Era la norma Pù finalmente Dopo i maccei La festa L'Italia è destra Oh Da per tu Girava una parola L'Italia è italiana Una roba sola Caro Pepin Quanti combattimenti Luti Pianti E morto Un sac de gente E oggi come oggi Dopo 150 anni Sin de memoria corta Encharcordang L'Italia Tutta intera Nova Nova Ha superato Un'Italia Più di una prova Il brigantaggio E l'epoca fascista Da guerra E i andepiom Sei terrorista Insieme E il piemontese E il marchigian Insieme E il sardo L'ombro E il friulano Da Ventimiglia Fin a Trieste Inclusa Dall'Alpi Fin da Pied A Lampedusa L'Italia Dai centimila campanili Mela le pias E mela Anche i dialetti L'Italia Sal corbon Sempre gentile L'Italia Unita La dignità E il rispetto I dopo Pepin Mazzini E Garibaldi Tra l'ora Concludevne Nervi Saldi L'Italia C'ha soltanto 150 anni Se cresce L'unità Insieme Pian Pian Quando se cammina Tutti In una stradina Settling Granai Se qualche Brecciolina La medicina Non è la prepotenza C'è la comprensione E la pazienza Dopo ogni inverno E' sempre Primavera Viva l'Italia Viva l'Italia Intera Questo Era per Rimarcare Come gli italiani Generalmente Siano Di cuore Gentile Quindi Siano Partecipativi Nelle loro Nelle loro Cose La vita Purtroppo Ha dei tragitti E ognuno Ha il proprio E questa poesia Cumicoriandul Esprime proprio Il tragitto Delle persone E' una poesia Che è stata premiata Al Campidoglio L'anno scorso Ad aprile No sin Cumicoriandul A carneval Buttati a praria Ognun per il vol suo Decenti colori Pursi Tutti uguali Portati via Dal vento Anche a sem vuoi E come loro Tra Mesa E San Pietrin Se va per terra Dispersi O a muccherini La contentessa Per Che il momento De vita E' come un Sofit vent E' subito finita Quando Giravolze Fanno Dunque il concetto Che ognuno Vria Si sepol Più lung E' bello Tra le fulette Del vento Dietro E' il destino Un'altra volta Sola Verso il cielo Fammi a partire Manina De fiolini Fammi Vriaca De vita Che è troppo bello E questo E' il mio Percorso Diciamo Dialettale In onore Delle donazioni Venite a donare Il sangue Che ne abbiamo Bisogno Grazie Si sta gobbando Cosa state misurando Si sta gobbando Adesso Rinculi Rinculi Un pochino Basta così Qualche centino Va bene così Perfetto Così Così Spetti Fermo Fermo Mendo un palmo Non respiri Non respiri Non respiri A pieni polmoni Respiri 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 Va bene Misuriamo Guardiamo un po' Qui ci vuole un po' di precisione 34 E' millimetrico 34 34 Com'è la formula 34 Allora Questo è sangue Puro Sì Gruppo B No 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 LMNV L-M-N-V Questo è un sangue Tutto nuovo L'avevamo fatto No In questo momento Proprio per l'Avestifano Sì Questa è una B È una B Positivo Fino a una certa ora Se ne sono da misurare Quanto facciamo Quanto facciamo prelevare Facciamo un bel prelievo Qui c'è voi Ma questo è poi prelevato Anche a due litri e mezzo E ne tocca un baffo È fortunato Sia lui che è quello che riceverà Ovviamente Può anche ricevere direttamente Perché L'uomo È un corpo sano Presidente dell'Avis Venga 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 Il precedente Non lo deve misurare Su Cavolo Prosto Ecco Ecco Sigobbi Ecco Fermo Mamma mia Fermo così Fermo così Tenga qua Tenga qua Tengo qui È emozionato presidente Sono preoccupato Devo dire È la prima volta Eh sì In questa posizione sì Ecco benissimo Vedo Che è molto emozionato E si Sono abbastanza teso Mi rialzo Sia la larghezza Sia la altezza 37 e mezzo Allora ripetiamo 37 e mezzo 37 e mezzo Di altezza E 37 e mezzo Di larghezza Anche qui c'è di sangue Da donare E a voi E queste ragazzi Gruppo B PP Come Pisa Come presidente Ah Giustamente Puntato Questo è un pipì Un pipì puntato Un pipì puntato Meglio del brunello Di Montalcino Anzi E quanto Quanto può donare Quanto si può Anche tre giorni consecutivi Questo è una fabbrica Allora ragazzi Visto che bella sorpresa oggi Siamo venuti tutti quelli del dialetto A donare Te pensa Siete contenti Molto Ma quanto tempo ci vuole per donare Se uno deve fare una donazione Cosa deve fare Per diventare donatore La donazione No no Per diventare donatore Per diventare donatore Basta venire al centro trasfusionale Dalle sette tre quarti Alle dieci Dieci e mezza E poi basta compilare il questionario Analisi del sangue Le urine E l'elettrocardiogramma Dopo un mese Arrivano le risposte a casa E quindi possiamo fare Tutti gli analisi Gratuiti Esatto Gratuiti Potete fare tutto quello che volete Ma dal 29 Fate Vobis Ah fate Vobis Perché sarebbe Il film Fate Vobis Fate Vobis Dai dai Guardate un po' qua Ecco perché Fate Vobis Ecco praticamente siamo qui Proprio per questo Vieni Simo vieni Siamo Siamo qui Eccolo Qui Fate Vobis Il nuovo film Della regia di Henry Secchiaroli Dopo gli altri Degli sbancati E questo è un film Completamente diverso Degli sbancati Un film molto molto bello E divertente Quindi fa ridere E anche un po' ragionare Pensare Simo Ma passa davanti Vieni qui Passa davanti Allora Tutti i protagonisti Fai una carrellata Allora I personaggi Tu che personaggio sei? Il postino C'è posta E tu? Italo faccenda Io sono il vice commissario Mariotti Il donatore Giovanni il contadino Il benzinaio Grandi ragazzi Ci dovete venire a vedere Per forza Per forza Perché oltretutto Oltretutto Sono due film in uno Con un unico biglietto Praticamente Ve viene Ve viene 26-27 centesimi Allora il film È proprio in un perco Niente Non potete mancare Mendo un caffè Però Però c'è da dire Che quest'anno Fate Vobis È un film completamente Di un livello Molto molto superiore Per fano Per fano Ragazzi Spacchiamo l'aria Ma Superiore Superiore Molto superiore Soprattutto superiore Rispetto Ai 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 Rispetto No 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 Non lo posso dire E te mi vuoi far dire Che io dico male Dei pesaresi Non lo dico 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 È questo No no Hai finito Dai No no Dai Dai Dic Mi è noto un'idea Guarda E se no Mettete un Bancuncino Per prendere il sangue Da cima La fila Davanti al cinema Perché la fila Per buccare Del cinema C'è la sicura Mettete un Bancuncino Davanti L'Avis Bene idea Ci piace E allora Fate Vobis Al cinema Dal 29 in poi Vi aspettiamo A oltranza A oltranza E Avis L'importanza Di donare Quindi donate il sangue Perché il sangue È l'unica cosa Che non si può Creare in laboratorio Quindi donate il sangue E salverete molte vite Fate Vobis Avis Avis Fate Vobis Avis Simo anche voi Avete risposto Proprio attivamente A questa giornata Dedicata alla donazione Sì sì Volentieri Perché io sono un donatore Francesco è donatore uguale Fabio donò Donò Ai suoi tempi Sì 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 Io ho incominciato tardi Però Come dice anche il motto Non è mai tardi Per fare cose importanti Uno si sente soddisfatto Sa che fa qualcosa di buono E quindi E quindi è contento E per questo avete deciso Di partecipare Ovviamente Sostenere il mondo Della donazione Sì ci hanno contattato Per questa manifestazione Siamo ben lieti Di provare A dare un contributo Abbiamo Avevamo uno sketch Di una commedia Che è scrissima Dieci anni fa L'abbiamo modificato Proprio per Per la giornata Così ma Allora siamo in uno studio Di un Psicodrammatico Diciamo Anche lei dal dottore Dice ma me Dico ma lei si si insolno do Ah No dicevo anche lei dal dottore Chi? No no io aspetto il tram Aspetto il tram E perché se può l'aspetto al tram? No no sporcheria Che linea? E che linea? E il 6 Ma due da G O da G al centro trasfusionale G.Solassi Centro trasfusionale sezione Avis Ospedale Santa Croce di Fano Ma il 6 al centro trasfusionale All'ospedale Santa Croce di Fano G.Solassi sezione Avis Bicca ce passa Ah no? E perché così in qua? Strat la porta della radiologia? No no Strat la porta della radiologia Fado cunce e passa Ma solo che il 6 Va su Arushan Il suo pro io fa tutte le linee Arushan? Sì Lei ha fatto tutte le linee? Sì E i cerchi? Ah doc ho messo le rotatorie Ho fatto anche quel Perché forse lei non lo sa Qual è che non so? Ah lei nel salvo Saper da me ma si è preparato? Ma preparato per sapere cosa? Che io sono già in Italia Per 25 anni ho guidato tutti i tram della provincia E se io dico il 6 Al centro trasfusionale Santa Croce Sezione Avis G.Solassi di Fano E non c'è va E non c'è va Il 6 va su Arushan Bisogna che si guida Ah sì? Eh sì Allora sai che fa? Eh che fa? Io vado su Fina Arushan Ma lì prende il tram E vado al centro trasfusionale G.Solassi Sezione Avis di Fano All'ospedale Santa Croce Va bene? Ma lassù non c'è nessuna linea Che porta al centro trasfusionale G.Solassi Santa Croce Sezione Avis di Fano Ah no? No Allora sai che fa? Che fa? E prendi la bicicletta E 27 marzo 2018 Marco siamo di nuovo qui Al centro trasfusionale di Fano Per una giornata Dedicata a questi mattacchioni A questo spettacolo Che questi ragazzi Ci hanno veramente donato Oggi Da stamattina Sono iniziate le gag Del nostro caro dialetto fanese Che caratterizza ancora di più Questo Donor Day Questo Donor Day Della gioia Perché dietro A questo bellissimo gesto Della donazione Ci sono tanti sorrisi E come non di più Un dialetto fanese Il nostro dialetto Può regalarci Gioia Serenità Convivialità Perché sono tanti In questi periodi Le attività Degli scrittori Dei poeti Degli sceneggiatori Dei teatranti Che stanno arricchendo La nostra città Con tanti sorrisi Appunto dietro La donazione C'è un sorriso Dietro il dialetto fanese Ce ne sono tanti Anche perché poi Il nostro dialetto È tanto È tanto complesso Perché appunto C'è il porto C'è il centro C'è la campagna E ognuno di noi La vive La vive a suo modo Arricchendo Quella che appunto È la sua anima Che è uno dei nostri slogan Di questi 2017 2018 Di arricchire La nostra anima Quindi Grazie e complimenti A tutte le persone Che hanno aderito A questo bellissimo Donor Day E in tanti Hanno anche donato Perché Prima della donazione Abbiamo avuto Anche cantanti Attori E cantautori Che si sono Prostati in questo Bellissimo gesto Della donazione Anche facendo La loro prima donazione Di plasma Quindi erano Anche quasi Più emozionati loro E ci hanno Emozionato Regalandoci Sorriso e gioia È vero Ma anche qua presenti Ci sono degli donatori Ed ex donatori Addirittura Tra poeti e attori Abbiamo assistito Delle testimonianze Di quando si mangiava La bistecca E si regalava Il pacco di zucchero Questa mia sinceramente Nuova del pacco di zucchero E Armano quindi Ci ha raccontato Tante poesie Anche bellissimi Anedoti Abbiamo Simone Che ha fatto Uno sketch Carinissimo E anche lui Donatore Sorgaggi Nicola E appunto Ha fatto la sua prima donazione Di plasma E si è prestato Con bellissimi Pezzi musicali Proseguiamo con altri sketch Forza e grande C'è un campo Vinderì Cambiano E mai ci stai distante Se gioca Scarpone Noi imbriacone Mochi altre giochene Solo al palone No ragazzi Sinna squadra E già venna mai a gialla Ed è il mes da riga nera E questa è la bandiera E questa è la bandiera Che non già venna mai a gialla Ed è il mes da riga nera E questa è la bandiera E questa è la bandiera Nico allora Vi siete appena disibiti Ma io vedo anche Un acerotto nel tuo braccio Perché qui insomma Siete tutti donatori Eh sì Praticamente sì Quasi Praticamente sì Quasi Quasi tutta Tutta la Borghetti Buron Band Oggi hai donato Sangue e Plasma? Plasma Prima volta? Prima volta del plasma Sì Come è stata? Come è andata? È un po' lunghietta Ma va bene C'è anche la televisione Io a caso non ce l'ho Quindi Si badurla poi cantate Quindi in qualche modo Vi trattete Sono passati tutti Ho chiacchierato sempre Quindi è andata benissimo Passa subito Non è un problema E anche loro appunto Mi dice Sì Addirittura poi Elisa Che poi è una di quelle Che ha instradato Tanti di noi Lei è una donatrice Avis È una responsabile provinciale Admo E quindi insomma È una di quelle Che nella donazione Nel senso più largo Del termine C'è dentro Magno e piedi Così dice Dalle parti nostre Però ci siamo tutti E siamo contenti Quando ci hanno detto Di sta cosa Chiaramente siamo venuti subito Perché poi insomma Anche perché Come diciamo sempre Tutte le scuse E' un buon Per fare un po' di festa No? E allora Poi fare un po' di festa Dando anche una mano È meglio ancora Insomma Che cosa ci farete sentire oggi? E allora Eh boh Un po' di canse Quelle che vengono Con Tanto Quella del carnevale Ormai bisogna farla Perché noi Rischiamo La saturazione Perché non ti È una Poi sono un inno Insomma Un simbolo Per la città Quindi è doveroso E quello Poi vabbè L'atletico Visto che siamo Sangue e cosa Sport E star bene È un meglio È quello Va bene Anche se noi adesso Siamo tutti donatori Una volta eravamo anche Un po' atleti Adesso un po' meno Perché gli anni Cominciano a crescere Poi non lo so Adesso vediamo Cosa ci inventiamo Che canzone può venire Con due chitarrine Così Un attimo Allora da Elisa Visto che insomma Di donazione Se ne intende Ecco un consiglio Per chi ancora Sta pensando Magari di diventare Donatore E ancora non lo fosse Allora Va più che un consiglio Posso dire Quella che Sì è una motivazione Nel senso Donare non costa nulla È veramente Un gesto Ridicolo Se la vogliamo mettere In termini pratici Si viene qua Si conosce tanta bella gente Perché Si fanno tante amicizie E con appena Dieci minuti Si può salvare una vita Approfitto Per agganciarmi A questo Admo è Associazione Donatore Di Midollo Osseo Che è un po' L'associazione Sorellina La sorellina minore Dell'Avis E il donatore Di Midollo Osseo È un donatore Atipico Perché dà la propria Disponibilità Con un semplice Prelievo di sangue Quindi veramente Sì esattamente nulla Come impegno Ma nel momento In cui si viene Richiamati Si ha la possibilità Di salvare una vita Nel senso Rapporto 1-1 Io Se mai Dovessi donare Il Midollo So già Che salverò Una persona Che può contare Solo sul mio Midollo Per salvarsi Quindi è una cosa Molto bella E stiamo cercando Di collaborare Tanto con Avis Perché Poi la cultura Del dono Il mondo Della donazione È inscindibile Un'associazione Dall'altra Sangue Midollo Così come la donazione Di organi Quando si entra In questo circolo Virtuoso Di donare Se stessi Agli altri Si sta meglio Che è perso Sapere Che è Sinna Fila tua Che ha da camminare Per armi Della Fitta In casa In cellulare Uto Mopi Giubutin Ria condizionata Il DVD Le scarpe Per chi più lì Stegi Il Dei quadrini Che confie Un sistema Che c'è Tirano giù Per una Scarpata I miei Fermi Stedial Camino E costro I muri E bu Pobbento Al carnaval E allora Avanti Paccasoli Con i carri E tata E vorrei che Quanto è bella La libertà Ragazzi Avanti Nessun Questa stilata Nessun Peserle dietro Che non Te li stivai E allora Avanti Paccasoli Con i carri E tata E vorrei che Quanto è bella La libertà Che lo Vuole Tutta Tutta St'allegria Che non Con l'energia Per combattere E campare Oh yeah Ehi Ok Ok L'apriranno la caccia Prima o poi Scusi Libera Sto posto No E occupato Non vede C'è l'uomo invisibile E 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 Se Se Può Spostare Un po' Più Là No No Se Può Proprio Perché Ad arrivare La donna Cannone L'uomo Ragno C'è Il Raguno Dei Supereroi Oggi E Vabbè Cercherò Un'altra Porta Ma Do Va Ma Vabbè Che Liber E Vabbè Sei Visibile Non c'è Una Giornetta Oggi Arturo Vieni Siete Di Qua Vieni Siete Da Nostre Testone Ma Invisibile Va bene Basta Così Basta Così Grazie Buongiorno Era Buongiorno Ma Sei Guastato Oh Io Sono puntuale Come sempre Spacca il minuto E Non solo Quello Oh E Contente Di Vedermi Guarda C'è l'idiotria Ti occhi Che mi salta Da un occhio Eclatra Lo voglio Vedere Io Lo voglio Vedere Io E Pensè Che O Rischier Puteva Anche Non Stamattina Perché Ier Sera A Momenti Mi Se c'è una macchina Una macchina nera No Era Blu No Nera Nera Blu E poi Da ringraziare Che c'era Il palletto Da piedi Io Sono Perché Sono Perché Sono Gita Fai La spesa Bravo Perché C'è Il Mastmalà Ho Comprato Il Yogurt Perché Il Yogurt Fa bene E Io Quando Sto Venzo A me Sto Beh Anche 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 Perché Nel Mastmalà Anche Anche Io Mangio Dieci Yogurt Al giorno Senti Che c'è Magnei O Ci vai Da per te Però Prima De magnei Ti tiro 3-4 Vol Contra Il muro Sì Perché Ma a me Mi danno fastidio I fermenti Lattici Vivi Allora Prima Prima De prima E voi Dè Una bella Sbattuta Prima Almeno Una bella Sbattuta Sì Intenerisce Ma tutti Come serve Il tuo Vi mettete Tutti Due Vicini Così potete Ragionare C'è tutto Un ragionamento Dietro C'è un ragionamento Dietro Questa Non è una roba Che se può fare Per lì Perché Una volta Ho letto Il vasetto De yogurt C'era scritto Che contiene Miliardi Miliardi Di fermenti Lattici Miliardi Io adesso Non so se c'era La lira L'euro Comunque Miliardi Ma lei Mi segue Seguerì A me Sono schiutata Ma comunque Vado avanti Allora Io Dico Miliardi Se questi E' Miliardi E i mangiù E dopo L'ora Si riproduce Ma mamma Come succede Ma io Dentro Scoppio Il cervello Da non fermare Allora C'è Allora C'è Contra il muro Dopo Se c'è Manca Al convivio Da un'altra Mesa Saganita E dopo Li mando giù Masticandoli Bene Capite Ma lei È un killer Dei fermenti Lattici Florindo Allora Due schiacci Divertentissimi Tutta la La sala d'attesa Che rideva Insieme a voi Grazie per Aver partecipato A questa giornata Così importante Grazie a voi Prima di tutto Ma questi abbiamo scelto Questi due sketch Perché è un po' Che questi girano Tutti e due Ma hanno Dappertutto Dove portiamo Un risultato enorme Perché è molto comico Molto allegro E ci divertiamo A dire Farli anche Una cosa che ci piace Poi io ho qui Il collega Che Lui Mosho mosho Ma No però so Anche che il suo collega È un ex donatore È stato donatore Sì sono stato qualche volta Poi ho avuto problemi Di salute Però Piacerebbe Piacerebbe esserlo ancora Vicini Al mondo della donazione Comunque In qualsiasi modo Anche portando Un po' di allegria Proprio come la vostra Anche così Aiuta un attimino Essere dentro A partecipare Comunque Questa Questa grande Questa grande cosa Grazie ancora E buon proseguimento Grazie a voi Grazie Grazie tante Senti Michele Io c'ho un problema grosso Ho da Gino America Sì A fare l'opera Siamo al colo Io mi sono sempre affidato Nel mio più caro amico Ma aiuti Tu mi hai sempre voluto bene Sì Stai tranquillo Non ti preoccupare Sono contento Allora prima di tutto Pensiamo a Cocobili Sì Sì Cocobili? Sì Il chihuahua di mia madre Il chihuahua di mia madre Ma dove è? Ma chi d'entra? È vive Cat Che ti portava anche a morte? No Perché nel senti Nel senti Perché ho rivestito Tutti il cestello nero Con il cestello nero Con il cestello nero Ah Come i uccelli Bravo Ma i uccelli si mettono il cestello nero sopra Per fare i fischi Adesso ho avuto un merli Ah sì? Allora sei esperto Sì Sì Adesso lei No È libero Nel palazzo E ti fuggi? No No È troppo grasse Mamma mia Quando peserà Stantakili Stantakili Ma qua è un strus È un merlo indiano Mamma mia Non ho mai sentito dire Allora guarda No no Aspetta 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 Non è che salta fuori No Qua è una ranocchia Salta E su Mi chiedono I cuschi Guarda che È piccolini piccolini Perché qui È piccolini Ma è triste Integra Uno Due Tre È piccolini È piccolini Un bel po' Sembra una palla La palla Ah quella Ma quello è il gioco Di Coco Bill Quello è Pecos Bill Stanto ti do La gulia Ma lì Sono dalla copertina È piccolini Un bel po' È piccolino È piccolino Scusa È viscito Senti Senti Che sembra viscito No è ruzzo Ruzzo Oh è vero Ruzzo Ruzzo Perché pure Ti ha avuto un eczema E alla luce Le gambe in tua Segrata 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 Fa tutte le croste È abituato Dove essere toccato Filippo raccontaci un po' La tua prima esperienza Della donazione È passato qualche anno Sì Parecchi Molto volentieri La mia prima donazione È con molto orgoglio Che la racconto Fu Nel 1974 E donai Al Policlinico Gemelli A Roma Ma La donazione fu Diretta Io Vedevo Gli occhi Della persona Che riceveva Il mio sangue Perché era A un metro Da me E Ne fui Estremamente Orgoglioso E ne sono ancora oggi Orgoglioso Di quella donazione Un'esperienza Anche abbastanza insolita Significativa E toccante Da quel punto di vista Sì perché Già donare il sangue In quegli anni Era una cosa Abbastanza Anomala Tra virgolette Non sapevi bene Cosa Andavi A fare Sapevi che ti Prendevano del sangue Ti mettevano Un ago In vena E Estraevano il sangue Questo sapevi Quello che succede Anche oggi Ma Oggi c'è un'altra Consapevolezza Un orgoglio Quasi All'epoca Niente Di mattino Abbastanza presto Salivamo Su un piccolo Pulmino Ve lo dico Ero alla scuola Sotto ufficiali Della guardia di finanza Eravamo Quando arrivavano Dei messaggi Con delle richieste Di sangue Chi aderiva Eravamo 8 9 10 persone E ci portavano Direttamente Alla persona Che aveva bisogno Di Io avevo Il mio gruppo sanguigno E AB positivo C'era bisogno Di quel gruppo sanguigno E immediatamente Mi mettevano in contatto Con La persona Che ne aveva Che ne aveva necessità Quella è stata La prima Di una lunga serie Dopo Ho continuato A fare il donatore Di sangue Fino a poco tempo fa Vabbè Poi c'è stato un problema Vabbè Però Penso di riprendere Un parere? Perché Questo lo dico Alle persone Ai ragazzi Alle persone più giovani Donate il sangue Perché Poi Nel tempo Sarà un punto D'orgoglio Un punto d'orgoglio Profondo Personalissimo E Vi arricchirà tanto Questo Fatelo Ne verrete Ricompensati Questo E Adesso ve la dico Proprio tutta Allora Mi metto anche al capello Perché fa parte Del personaggio Se no Non me lo metterei Beh Chi ha il fisico Chi ha il corpo sano Come lo chiamo io E può donare il sangue E non lo fa Veldig Quanti stupiti Sto scherzando Vi abbraccio Donate il sangue Ne verrete ricompensati In occasione del Donor Day Dedicato al dialetto fanese Siamo tutti qua Al centro trasfusionale Uniti Per augurarvi A tutti voi donatori E agli telespettatori Buona Pasqua E se potete Venite a donare Altrimenti Fate Bobis Il nuovo film Di Henry Secchiaroli Auguri Ciao Auguri a tutti E viva l'Avi Grazie a tutti